Un cadavere di donna in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto ieri sera nei pressi della stazione ferroviaria di Santa Maria Capavetari in provincia di Caserta. Dai primi accertamenti del medico legale la parte superiore del cranio risulta parzialmente sfondata. La profonda lesione sul capo potrebbe essere compatibile con una ferita da corpo contundente. Secondo una prima ipotesi potrebbe trattarsi di Antonietta Afieri, scomparsa il 18 giugno scorso e il cui caso era stato trattato anche dalla trasmissione Chi l'ha visto. Il corpo, nascosto tra i cespugli e coperto da assi di legno in un'area di pertinenza della stazione, usata in passato come deposito, è stato scoperto da un bambino che stava giocando a pallone insieme ad alcuni amici. Alla vista del cadavere il ragazzo è corso da un dipendente delle ferrovie piangendo e indicando il punto del ritrovamento.